Raduno bagnato, raduno fortunato. Se la pioggia ieri ha rovinato la festa, che almeno il detto trovi conferma, se lo augurano quelli della scuola calcio Isola di Dino di Praia Mare. Stiamo parlando della festa sportiva e del raduno programmato allo stadio Mario Tedesco dalla scuola calcio praiese. Giovani calciatori e famiglie, staff tecnico e dirigenti hanno raggiunto il campo di calcio nonostante il maltempo. La stagione agonistica 2014-2015 è alle porte. Ottobre è ormai prossimo e occorre essere in forma per conquistare la vittoria partita dopo partita. Giovanissimi allievi alla cerimonia d'apertura con ospite d'eccezione Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, numero uno per quasi un decennio a cavallo degli anni 80 e 90. Con la formazione bianconera ha vinto tanto e anche l'isola di Dino vuole vincere. L'obiettivo, come spiegato dallo staff tecnico, è confermare l'ottimo lavoro fatto fino ad oggi. Quanto di buono abbiamo fatto già l'anno scorso. Siamo ripartiti alla grande, abbiamo nuovi tecnici qualificati in mezzo a noi. La nostra intenzione è quella di fare bene come l'anno scorso, se ci riusciamo. Non solo tecnica e tattica per i calciatori del futuro. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso, non ci allontaniamo da quelle che sono le nostre prerogative. Noi svolgiamo una funzione sociale verso i ragazzi, che si pone prima dello sport sicuramente. Il bello dello sport, la disciplina, l'impegno, il piacere di stare insieme ed è veramente bello vedere tutti questi ragazzi che si ritrovano con una presenza veramente degna di nota, quella di un grande calciatore, quale è stato Stefano Tacconi.